Siamo dall'associazione Librellule, siamo lettori e lettrici volontari della biblioteca comunale Fausto Sabeo di Chiari. Facciamo numerose attività in collaborazione con la biblioteca e le facciamo per la durata di tutto l'anno in maniera rutinaria. Per il laboratorio di oggi, ce n'è per tutti, abbiamo presentato varie tipologie di racconto con personaggi diversi, lupi, dinosauri, tutte storie che possono piacere ai bambini di ogni età, ma soprattutto dai 2 ai 7-8 anni. Sono parte dei racconti che noi facciamo ogni venerdì alla biblioteca. Siamo presenti in microeditoria da alcuni anni in occasione dell'inaugurazione dove siamo chiamate a leggere alcuni brani, in questo caso quest'anno erano tutti brani dedicati alla luna tratti da poesie di vari autori. Abbiamo partecipato alle premiazioni leggendo un piccolo estratto di quelli che sono stati i libri premiati, alcune di noi hanno fatto parte anche della giuria come tutti gli anni e poi questo appuntamento è dedicato proprio ai bambini e ormai è diventata la consuetudine. Ci sono anche alcune di noi che hanno tenuto in mattinata un laboratorio sui libri tattili, sono sempre nostre librellule che si dedicano anche a questa attività più manuale. Sì, siamo tutti volontari, non chiediamo mai pagamenti di nessun tipo, lavoriamo gratuitamente ma soltanto per chi presenta qualcosa di culturalmente valido alla città.